musica 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 weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video e sono xuder e ragazzi l'avete visto poco fa sicuramente il video della nuova mappa di fortnite ragazzi della nuova season con un sacco di c'è gente davanti al a1 a1 scusate ragazzi porca miseria ma perché ci deve sempre essere gente davanti quando io registro aspettate raga fatemeli killare ma sono a1 minchia li jump in faccia gli jump a questi ucciso a terra c'è uno che mi ha sparato ragazzi sentite che rumore c'è dove sono? sono tutti qua perfetto come vedete ragazzi come sentite guardate ragazzi guardate il nuovo portale al dur burger ragazzi purtroppo un'altra delle icone di fortnite sta per lasciarci ragazzi guardate che storia guardate che storia l'abbiamo visto oramai la crepa ogni giorno che passa continua sempre di più a crescere ragazzi il nuovo portale al dur burger è la prova che anche questa city purtroppo verrà risucchiata con il nuovo ingresso della season 5 abbiamo visto già quello a rifugio ritirato abbiamo visto anche quello a motel perchè Ascarius deve ballare porca miseria che sto facendo le cose e secondo voi ragazzi dove andranno a finire questi questi elementi della mappa li ritroveremo o non li ritroveremo? secondo me no secondo Ascarius non li ritroveremo gli altri ragazzi invece si limitano solamente a sganciare proiettili come se non ci fosse un domani e quindi ragazzi che dire proviamo ad andare a distruggere il burger vediamo se succede qualcosa qualcuno faccia una scala che lo distruggiamo aspetta eh io non ho materiali via via giù l'insegna del burger è rimasto su il burger da solo distruggete quel burger distruggete qualcosa no nulla da fare ragazzi nulla da fare anche distruggerlo non da niente eccolo qua ragazzi nuovo portale incredibile a boschetto bisunto se ancora non l'avete guardato mi raccomando ragazzi festeggiamo la di partita del durburger ragazzi con la nostra stellina che dire ragazzi la season 5 oramai è prossima oggi troveremo le sfide della settimana numero 10 intanto noi andiamo in safe e tutto quello che posso dirvi ragazzi è stare connessi su questo canale per rimanere sempre aggiornati su tutti gli update della season 5 di fortnite e speriamo anche sull'uscita di fortnite per android noi ci vediamo in live ciao ciao